La polizia postale delle comunicazioni di Pescara ha sventato una truffa online da 30.000 euro ai danni di due coniugi sordomuti. Il personale è stato contattato dal responsabile della sicurezza di una banca che gli segnalava un prelievo sospetto da parte di una loro cliente sordomuta che si era recata presso la terca schiedendo di prelevare 30.000 euro dal proprio conto. Poiché per raggiungere tale somma era necessario anche svincolare alcuni investimenti, la direttrice che conosceva l'handicap della cliente le ha chiesto a cosa servivano tutti quei soldi ottenendo solo spiegazioni evasive. La banca si è quindi messa in contatto con la polizia postale. Secondo quanto accertato la coppia di sordomuti aveva ricevuto una e-mail nella quale si comunicava la vincita di una fantomatica lotteria in Inghilterra da 650.000 sterline che i coniugi avrebbero ricevuto dopo aver versato 30.000 euro per le spese notarili e varie. I truffatori avevano già richiesto un pagamento di 700 euro che i due coniugi avevano già inviato ad un cittadino inglese.